Prima di raccontarvi cosa è successo, sosteneteci lasciando un like al video e iscrivendovi al canale. Per noi è molto importante, grazie! Durante un rinomato evento in Sicilia, Albano Carrisi ha fatto dichiarazioni sorprendenti che hanno subito suscitato polemiche. Ospite allo stand del Ministero dell'Agricoltura all'Expo 24 di Siracusa, il celebre cantante di Cellino San Marco ha toccato temi politici delicati, prendendo le distanze da ideologie che non sente proprie. «Non ho nulla contro, né i fascisti, né i comunisti», ha esordito l'artista ottantenne, ricordando i difficili anni vissuti durante i turbolenti anni Settanta, quando decise di emigrare per esibirsi in diverse parti del mondo. Carrisi ha raccontato di aver trovato conforto in paesi come la Spagna, il Sud America e la Bulgaria, parole che hanno suscitato forti reazioni. Molti sui social si sono chiesti se stesse cercando di evitare un chiaro schieramento politico, lasciando perplessi alcuni suoi seguaci di lunga data. Il cantante ha ribadito l'importanza delle esperienze personali, sottolineando che solo vivendo direttamente diverse realtà si può davvero comprenderle. Tuttavia, le sue dichiarazioni hanno attirato critiche, con alcuni che lo accusano di essere stato troppo diplomatico e di non aver preso una posizione chiara. Le reazioni non si sono fatte attendere e il dibattito si è acceso rapidamente.